Buonasera, questo video per illustrarvi una operazione di trading intraday che abbiamo appena concluso, questo pomeriggio si è potratta fino alla chiusura sul DAX, quindi il future sul mercato italiano. Abbiamo aperto la posizione alle tre e mezza, l'apertura della borsa americana qui sul livello 13.078, come al solito alla rottura rialzista dell'indicatore super trend, dopodiché il mercato effettivamente è salito, è salito con molta forza, è salito con molta costanza, si è sempre mantenuto al di sopra sia dell'indicatore super trend che del parabolic SAR, quasi sempre, sia della media mobile a 25, non l'ha mai lambito, ovviamente è salito anche super trend che ci faceva da trading stop, questo è durato diverse ore, ma non ci sono mai stati dei grossi segnali di inversione, ci sono stati solo dei piccoli ritracciamenti sempre e subito e velocemente riassorbiti fino quasi alla chiusura. Qui su questa ultima barra verso le ore 10, questa candela fondamentalmente che si è trattata di un trattino, lì abbiamo deciso, ho deciso di chiudere la posizione perché ormai eravamo in chiusura, non credevo che il mercato potesse dare altro, in realtà poi nei successivi 10 minuti è schizzato all'insù fino ad arrivare a 13.900, io comunque ho chiuso la posizione prima senza sapere, non potevo certamente né saperlo né immaginarlo, anzi mi aspettavo che il mercato ormai rimanesse invariato e ho chiuso la posizione qui sul livello 13.868, quindi una operazione che è durata un intero pomeriggio fino alla serata da 13.778 a 13.868, dalle 15.30 alle 10-10 fondamentalmente sono stati 90 punti di un'operazione determinata da un mercato fortemente direzionale rialzo, come è stato del resto il correlato americano e il guadagno portato a casa è stato quindi di 2250 euro lordi. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti come al solito buon trading.